signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale questo è un video speciale per la rubrica scrivere una quest nel primo video avevo chiesto a tutti voi di mandare le vostre idee per una quest da cui avremmo ricavato l'idea iniziale per la quest che avremmo scritto in maniera collaborativa sono arrivate veramente un sacco di proposte quindi nel primo video quello che dovrebbe essere uscito domenica scorsa adesso non so esattamente quando questo video verrà pubblicato ma molto probabilmente sarà qualcosa di intrasettimanale comunque nel primo video non ho potuto esaminare richiesta per richiesta perché erano semplicemente troppe il video sabeduo troppo a lungo ma mi dispiaceva non fare almeno un commento sulle singole proposte che sono arrivate quindi faccio uscire questo video speciale anche solo come ringraziamento a tutti quelli che hanno scritto prima di iniziare voglio di nuovo ringraziare tutti quelli che hanno scritto e grazie all'interazione col pubblico che questa rubrica è migliore di quello che potrebbe essere e poi l'interazione col pubblico fondamentalmente la linfa vitale di un canale di youtube quindi apprezzo tutti quelli che hanno scritto tutti quelli che hanno condiviso il video tutti quelli che hanno messo like non solo al video ma anche alle varie proposte che sono state fatte e fondamentalmente le idee che sono state scelte poi sono state quelle che hanno ricevuto più like quindi non considerate che se la vostra idea non è stata scelta sia per qualche motivo migliore o peggiore delle altre capita a tutti i master di avere una buona idea ma il proprio tavolo non l'apprezza voglio anche aggiungere che tutti i commenti che farò sono in natura prettamente personale quindi non prendeteli come oro colato i miei gusti non necessariamente corrispondono ai vostri già il fatto che vi siete messi lì avete scritto la proposta vi rende comunque intitolati a ricevere almeno una risposta quindi non perdiamo altro tempo cominciamo subito adesso le prenderò nell'ordine in cui me le visualizza youtube non so chi abbia scritto per primo dopo quindi l'ordine fondamentalmente casuale e iniziamo con gianni l'utente più amato del canale nonché mia personale mascotte gianni ha proposto un giallo misto racconto di viaggio che ha come tema l'amicizia perduta i protagonisti si godono una serena uscita serale in giro tra i bar della loro città quando di colpo camminando per la strada in un vicoletto buio appartato si imbattono in un evento raccapricciante il loro migliore amico del cuore amato da tutti che camminava un po più avanti rispetto a loro viene aggredito da un misterioso individuo del quale gli unici elementi riconoscibili sono una strana maschera un coltello e una gemma che nel momento esatto in cui il coltello trafigge le carni nel migliore amico del cuore amato da tutti si colorano di un rosso smeraldo questa scena forse l'ho già vista la storia inizierà come un giallo nel tentativo di dare giustizia al miglior amico del cuore amato da tutti portando il suo assassino davanti alla giustizia per trasformarsi gradatamente in un viaggio epico ai confini dell'universo spinto dall'amore dal senso di nostalgia al fine di ritrovare gli elementi in grado di portare in vita il miglior amico del cuore amato da tutti ok gianni sta cercando di fregare il sistema perché questo è il modo in cui è morto nella continuity del canale si uno degli utenti è morto ci ho anche dedicato un video andatevelo a recuperare piuttosto perché è una storia lunghissima che ha pochissimo senso comunque diciamo che l'idea se non fosse che non può essere applicata perché oramai il pubblico ha votato che gianni è morto e verrà recuscitato come abominio non morto all'interno di un barattolo sì c'è stata una votazione a riguardo è sempre sotto lo stesso video l'idea di per sé avrebbe senso l'unico problema è che se la presentazione del miglior amico del cuore amato da tutti avviene all'inizio della stessa quest in cui c'è la sua morte sarà molto difficile che i giocatori sviluppino un attaccamento a quel png quindi sì sarebbe buono come pitch per una quest ma non come questa se stante sicuramente non come quest iniziale forse questo potrebbe essere buono come quest nel secondo atto di una campagna più lunga dove nel primo atto il miglior amico del cuore amato da tutti ha effettivamente fatto qualcosa per diventare il loro miglior amico ed essere amato dai loro personaggi comunque no non vado contro la volontà popolare oramai gianni rimane un abominio all'interno di un barattolo vedremo poi come farlo ricomparire nei video e adesso abbiamo antonio spezzatti che propone un altro giallo a tema fiducia amore e morte i protagonisti sono stati inviati nella casa di un potente famoso arcimago insieme a persone che non conoscono ognuno dei personaggi deve avere buone doti investigative cacciatori d'italia divinatori seduttori investigatori il mago dice loro che sta cercando il migliore investigatore per affidargli un incarico estremamente importante questo ovviamente sarà ben ricompensato la prima sera il mago presenta le stanze ad ogni personaggio ogni personaggio ha una stanza tutta per sé dopo la mezzanotte la stanza non si potrà più aprire o chiudere fino al mattino successivo durante la notte per uno degli inviati viene trovato morto nella sua stanza il mago non si trova a nessuna parte nessuno può entrare uscire dalla dimora i personaggi dovranno cercare l'assassino sopravvivere e trovare un modo per assicurare la giustizia questo è il classico mistero della stanza chiusa e di per sé per una quest isolata anche una quest one shot credo sia un'idea un'idea ottima l'unico problema che potrebbe avere quello della presentazione dei possibili indiziati perché o limiti personaggi a effettivamente i soli personaggi giocanti quindi uno dei giocatori è l'assassino oppure devi presentare un buon numero di png perché ovviamente se presenti un solo png e tutti gli altri sono giocatori chi è l'assassino potrebbe essere abbastanza ovvio anche se in questo tipo di racconto probabilmente il twist è che o il mago stesso è l'assassino o quello che è stato assassinato era qualcuno che cercava di assassinare il mago comunque sicuramente in un racconto del genere a un certo punto deve arrivare un ribaltamento di trama per rendere le cose più interessanti però questa sarebbe interessante giocarla e per il prossimo abbiamo un altro nome noto Mirto Musci che propone un fantasy romantico scontro tra culture diverse ah fondamentalmente questo è il tema della civiltà contro i barbari ok sì con il fatto che i barbari non necessariamente sono effettivamente dei barbari un villaggio di provincia pieno di reciproche diffidente la minaccia sembra interna quando in realtà si scoprirà essere esterna l'idea è quella di affrontare un tema che vada oltre il solito fantasy manicheo e che spinga in parte la riflessione sui temi contemporanei non vorrei comunque escludere del fantastico con una tecnica bait and switch inizialmente sembra essere l'orrore del villaggio poi si scopre che sono i pregiudizi infine la rivelazione di una minaccia esterna vera e propria eventualmente comprensibile anch'essa lo scopo è quello di accompagnare eventualmente anche un gruppo di adolescenti in un percorso che abbia qualche valenza educativa dipende dal contesto questo per esempio potrebbe essere un ottimo pitch per qualcosa che debba essere effettivamente presentata ad un gruppo di adolescenti ci sono molti master che sono da apprezzare perché lavorano con i ragazzi lavorano nelle scuole e oltre a far conoscere il gioco di ruolo di per sé che comunque da elogiare usano il gioco di ruolo per aiutare i ragazzini anche i bambini a sviluppare le loro capacità interpersonali una storia del genere dove fondamentalmente i giocatori sono costretti a essere messi di fronte ai loro pregiudizi e i loro preconcetti sarebbe ottimo per quel contesto forse per un gruppo i giocatori adulti avrebbe molto meno impatto perché è una situazione relativamente già vista quindi il twist però che apparentemente sembra il classico racconto in cui il vero mostro sono i pregiudizi ma poi in realtà il vero mostro è veramente un mostro potrebbe fare colpo anche su di loro adesso abbiamo flutokings che fondamentalmente è quello che ha fornito il pitch iniziale più simile a poi quello che è stato effettivamente votato per la maggioranza che è un fantasy o steampunk in realtà qui ci sarebbe da fare un insere a serie di video perché lo steampunk è un genere strano in realtà è come il metal ci sono 5.000 sottogeneri comunque flutokings pensa a un piano una città dove varie fazioni si scontrano ovviamente i giocatori sono i senza gilda che dovranno mettere d'accordo tutte le varie fazioni e fondamentalmente la sua trama era un malvagio che una volta raggiunto l'accia del potere cerca di sottomettere le altre potenze tramite giochi di potere tramite economia apparendo come la soluzione a tutti i mali quando in realtà lui è il male anche lui pensa a un percorso educativo come mirto qua in realtà fondamentalmente è la base del racconto politico il cattivo è qualcuno che causa un male e poi si propone come l'unica possibile soluzione a quel male è un racconto di in realtà è un commento sociale buono però forse un po tanto legato all'attualità politica mettiamola così pietro sgherzi è stato l'unico a puntare dritto sul science fantasy anche se molti altri ci hanno girato attorno propone un racconto in realtà puramente ambientalista i maghi della corporazione solaris devono preparare il campo per un nuovo nucleo coloniale trovano qui alcune problematiche più avanzano più gli animali autoctoni attaccano con foga si scoprirà che il luogo è il nido di un'ultima colonia di insettoide dei sotterranei grandi come lupi ci saranno due possibilità o i pg affronteranno e abbatteranno il nido in un sosseguirsi di scontri sempre più clienti nel caso vincessero uccidendo tutti il quadrante collasterebbe nel giro di sei mesi gli insetti fungono da manutentori del pianeta oppure i pg possono cercare un modo alternativo e qui scoprono la funzione degli insetti nonché dopo diversi incontri pacifici gli insetti li porteranno in un luogo migliore schermato ai radar dalla strana bava pietrificante dei soggetti insetti a lungo termine con gli insetti possono collaborare e vivere meglio prolificando ok è buono ma visto così è una puntata di capitan planet sì sono così vecchio questo pitch ha fondamentalmente due problemi non c'è un antagonista proprio di questo nome che di per sé non è un problema non necessariamente una storia ha bisogno di un antagonista materiale però normalmente racconti di questo tipo hanno bisogno di una figura che faccia da contrasto perché nel caso i giocatori decidono di combattere con gli insetti gli insetti faranno l'antagonista ma nel caso i giocatori decidono di collaborare con gli insetti in realtà non avranno nessun nessuna pressione esterna a convincerli a non farlo molto probabilmente in questo caso l'antagonista sarebbero i maghi della corporazione solaris però non è specificato l'altro problema l'avevo già sottolineato nei commenti quindi ovviamente questa è una bozza quindi non è un reale problema ma è che il conflitto interno è troppo facile perché esiste palesemente una soluzione corretta che è quella di allearsi con gli insetti nel caso i giocatori scelgano di allearsi con gli insetti vincono e anche facilmente nel caso decidono di contrapporsi hanno perso in realtà nello stesso momento in cui i giocatori dicono che non vogliono aiutare gli insetti tutto quello che succederà in quest è puramente un corollario loro hanno perso per come messo qui se si vuole rendere la quest più interessante più che altro se al contrario di quelle che dicevamo prima che sarebbero ottime per essere proposte dai bambini questo è effettivamente molto infantile probabilmente per un pubblico adulto bisognerebbe girare le cose cioè rendere il dilemma morale più interessante dicendo per esempio che se gli vengono aiutati gli insetti cioè se effettivamente i giocatori fanno una scelta ecologista la colonia è destinata alla distruzione se decidono invece di favorire l'industrialismo gli insetti sono destinati alla distruzione in modo che non ci sia un'ovvia scelta corretta per i giocatori Gianluca Vecchi il Dawn con cui sto collaborando a un'altra quest propone qualcosa più che altro Gianluca Vecchi fa notare che una quest deve avere del combattimento perché dopo una settimana di lavoro i giocatori devono sfogarsi durante la quest e propone qua bisogna dire una cosa ne ho già parlato con lui non vi inventate le parole Magic Punk come ambientazione non esiste quando lo steampunk incontra il fantasy ci sono varie definizioni l'elf punk, il dungeon punk, il full metal fantasy sono tutti i generi relativamente simili ma comunque diversi tra di loro si capisce che quello a cui lui sta facendo riferimento e quello a cui hanno fatto riferimento anche altre persone come ho detto poi nel video è il dungeon punk cioè il fantasy con della tecnologia e dei toni noir però non è così scontato comunque la sua proposta è all'indomani di una votazione democratica un attentato ha decapitato la classe politica attraverso comunicati stampa viene annunciato che per non lasciare il governo allo sbando è stata creata una commissione per gestire l'emergenza successivamente il nuovo reggente annuncia l'istituzione di uno stato di polizia in cui si invitano tutti i cittadini a collaborare i rappresentanti sopravvissuti della vecchia guardia politica sono prelevati e interrogati e spesso non si vedono più il gruppo potrà quindi scegliere quale delle diverse fazioni aiutare e con quale scopo ottenere una lasciata passare per lasciare il paese ripristinare la vecchia politica oppure aiutare il nuovo regime il fulcro alla questione è che una giovane promessa della politica regionale di fronte all'ottusità e all'amiopia della vecchia guardia non ha trovato un altro modo se non uccidere tutti i vecchi rappresentanti e ricominciare tutto da capo la rivalsa sociale è insita nel fatto che la metrocrazia che il villano vuole instaurare è quella che lui è stata negata anche questa è poi molto simile al pici che è stato scelto per l'idea iniziale Don Vecchi l'ha messa su toni proprio molto politici in realtà è un racconto sui limiti della democrazia tra l'altro questa proposta è quella che ha suscitato la discussione più interessante sul fatto se presentare varie fazioni non allungasse troppo i tempi effettivamente per essere il pitch di una singola quest questo racconto sarebbe troppo lungo qua devo dare ragione a metallo devasto nel nostro caso non si pone il problema perché Don Vecchi l'aveva concepita come dice toni di grigio con black humor non l'ha concepita come un giallo questo in realtà credo o è d'azione o in thriller politico in cui effettivamente le varie fazioni dovrebbero essere sviscerate presentandola come un giallo le varie fazioni sono semplicemente possibili indiziati quindi tutta la parte in cui i giocatori devono fare una scelta non si pone e i tempi della quest si riducono molto diciamo che questa invece è una quest assolutamente non adatta ai bambini perché tratta dei toni politici decisamente maturi Mellow Miel Kill invece torna proprio alle origini in realtà alle origini del fantasy con il fantasy tolkeniano non solo come genere ma proprio ambientando la sua proposta all'interno della terra di mezzo alcuni nani viaggiatori informeranno i personaggi di ciò che sta accadendo sulle colline qua si parla della zona intorno alla città di Brea una nebbia insolitamente spessa si alza nella notte e si vocifica di corpi che si risollevano dalle rotombe per attaccare le fattorie nei dintorni la malvagità dilagante inizia lentamente a corrompere e a mutare ambienti e facendo fuggire gli animali oltre ad attare grandi ragni e altri pericoli nella zona il tutto porterà a un conflitto finale contro un emergente negromante molto sprovveduto che aveva intenzione di conquistare Brea per porla come punto di espansione verso la Contea io ho effettivamente giocato questa quest credo sia semplicemente una coincidenza ma anni fa giocando a Girsa mi è capitato di partecipare a una quest virtualmente identica a questa purtroppo è stata l'unica proposta di questo genere quindi è stata scartata ma è una quest probabilmente questa è la quest più classica possibile ed è una quest ottima io credo che un sacco di gruppi si divertirebbero un sacco su una quest è abbastanza lineare però prende più che altro prende toni tipicamente tolkeniani e li usa per quanto mi riguarda perfettamente Brea comunque è relativamente vicina alle Tumurilande e quindi questa trama ha perfettamente senso Karstein è un altro di quelli che si è concentrato su temi di attualità nel suo caso proprio di attualità specifica una delle due regioni fa della magia il proprio mezzo di sussistenza anche dal resto del mondo vengono pagati molto bene i servizi dei maghi e dei chierici provenienti dalle varie accademie collettivamente si sta tentando di sviluppare un incantesimo che causa un morbo in maniera selettiva almeno così si dichiara pubblicamente tra colleghi il morbo è in grado di colpire selettivamente un determinato tipo di creatura la situazione sfugge di mano abitanti della ragione e gli stessi creatori dell'incantesimo durante i test si ammalano il morbo decompone man mano i connotati delle vittime prima portandoli alla morte ma in alcuni presenta una variante non dà sintomi dopo qualche giorno li rende deformi non li uccide ma li rende lo stesso infettivi per lo spavento molti migrano e giungono nella seconda ragione dove il morbo si propaga ciò rende dissapoli tra le due regioni da presenti perché nella seconda ragione la magia era tollerata ma non esattamente ben vista evidenti conclamati e violenti tanto che i pg assistono ad episodi di linciaggio pubblico a danno dei provenienti dalla prima regione uno dei pg viene deformato dal morbo e lo scopo principale è trovare la cura salvare le due regioni e capire se ciò è stato un puro caso se la cosa è successa perché è macchinata a tavolino uno dei problemi quando si vuole legare la propria quest all'attualità è che le quest non avvengono in tempo reale per cui prendete la cosa con le pinze ma se questa deve essere trasformata in una storia deve essere lavorata poi deve essere giocata e magari passano varie sessioni prima di arrivare nel vivo della quest la notizia che l'ha ispirata a quel punto sarà vecchia di mesi e quindi la quest avrà un grip minore però di po' se una quest di commentario sociale molto buona tra l'altro un'altra in quelle in cui sono state proposte le fazioni che poi è il tema che è stato scelto l'unica pecca che direi io è quella di far mutare uno dei giocatori non è necessariamente detto che un giocatore apprezzi una cosa del genere per il proprio personaggio soprattutto se poi questo ha anche degli esiti meccanici se il morbo rendesse il personaggio più debole di quello che era il giocatore potrebbe sentirsi potrebbe risentirsi alla cosa e al contrario se in realtà gli desse dei poteri in più gli altri giocatori potrebbero sentirsi esclusi da questa cosa quindi in realtà dovendo metterlo al tavolo la eviterei però è carino l'idea di prendere fondamentalmente notizie dal telegiornale e trasformarla in quest diciamo che è un esempio da manuale di come un master con un minimo di spirito di adattamento può recuperare idee per le proprie storie da dovunque Francesco tra l'altro propone un pitch molto molto simile a quello di Karstein soltanto che è un altro di quelli che l'ha proposto come giallo in una città chiusa da mura e isolata in una regione remota migliaia di provinciali e poveri vogliono entrare per sfuggire da una pandemia scontro tra cittadini e provinciali o stranieri con annessi pregiudizie in entrambe le parti eroi che devono fare la scelta morale con chi schierarsi magari messi in mezzo a per sbaglio succede qualcosa in misterioso come chiamata all'azione o punto di svolta è molto simile alla precedente solo che lui l'ha inquadrata proprio in una chiave di giallo che poi è stato è stato il tipo di racconto che è stato scelto stesso commento di prima bello prendere cosa all'attualità il problema potrebbe essere quello che passano di moda velocemente e finiamo con Indiana che è quello che ha fatto la scelta probabilmente più interessante perché si è approcciato al progetto in una maniera molto diversa che è comunque corretta più che voler sviscerare un argomento narrativo Indiana ha proposto una quest che serva per testare il sistema di gioco stesso lui propone come tema proprio testare varie dinamiche e il ragionamento che ha fatto è stato quello non tanto di inventarsi una storia e cercare di adattarla è stato come lui stesso ammette che vuole ambientare il suo racconto a roma nell'ottocento poco prima della breccia di portafia perché un periodo storico che a lui piace e qui probabilmente lui è anche esperto quindi potrebbe contare sulle sue conoscenze pregresse per rendere in maniera vivida l'ambientazione ma più che raccontare una storia autoconclusiva quello che lui vuole fare è testare varie dinamiche di un sistema che sta scrivendo per vedere cosa funziona cosa no e fino a che punto può tirare quel sistema ovviamente nel nostro caso specifico non si può fare anche perché un sistema che conosce una sola persona ovviamente inadatto a essere utilizzato in maniera collaborativa bisognerebbe che tutti imparassero il suo sistema non è il caso anche se poi indiana quando è finito di quando è finito di lavorarci presentalo magari ci si può fare qualcosa però comunque questo è un altro dei modi per cui si può fare una quest una quest non deve necessariamente essere di natura puramente narrativa voler provare a vedere come funzionano le regole e comunque una motivazione accettabile bisognerà poi vedere se in una situazione del genere se riesce comunque a dare una storia perché altrimenti i giocatori stanno tirando i dadi e basta e non è non è interessante da questo punto di vista però creare una storia non partendo da un'idea ma partendo da una meccanica e poi evolvere la quest per testare quella meccanica è comunque un metodo valido ok diciamo che il video finisce qui adesso non so per quanto ho parlato ma sicuramente è troppo di nuovo voglio ringraziare tutti quelli che hanno fornito i loro pitch in realtà un paio di pitch si sono avvicinati abbastanza poi quella che è stata la scelta conclusiva ma nessuno è stato scelto così com'era non abbiatevene a male è normale l'oggetto già nell'altro video nessuna idea resiste all'impatto col tavolo anche l'aveste proposta ai giocatori molto poi in mente i giocatori avrebbero fatto delle contro proposte che avrebbero cambiato la quest adesso è già uscito il secondo video quello su come sarà poi la storia l'idea iniziale per la storia che scriveremo tutti assieme spero di rivedere quelli che hanno già fatto le loro proposte e spero di vedere anche persone in più come sempre in più scrivete meglio viene una quest meglio viene una quest meglio è per voi ringrazio anche tutti quelli che sono arrivati fino qui ad ascoltare questo video che molto probabilmente sarà più noioso del solito diciamo che per questo video è tutto se avete domande se volete fare commenti ai miei commenti scrivete tutto nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master cae noi ci vediamo nel prossimo video